Io faccio partire pure il videocommento sul tiro di Bonucci che sbaglierà puntualmente, tiro e sbaglio. Ehi, l'ha segnata! Praticamente era parato sto rigore. Comunque ragazzi, niente, perché mi son detto, dopo l'errore di Belotti che si capiva che era cagato sotto, dopo che Maguire, un difensore centrale, segna un rigore praticamente sotto la traversa, Pickford che non è un grande portiere, praticamente le intuisce tutte, le para tutte, guardate pure i tifosi per poco. L'Inghilterra è Rashford, questa è entrata apposta per segnale il rigore, bello fresco fresco e me lo sbaglio. Peccato, peccato perché secondo me l'Italia, ormai facciamo già il videocommento durante i rigori, ma l'Italia è già persa, ha avuto quel momento, quel maledetto momento dopo il pareggio di Bonucci dove poteva approfittarne. Quando l'Inghilterra ha perso quell'occasione, c'è stato più nulla da fare, si è andata avanti sempre e comunque tutto in favore della... facciamo pure il boom che tira questo, tira Rashford, palo, 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 palo. Vabbè, ma comunque ragazzi, pure il palo di Rashford non è che cambia qualcosa, siamo in parità, non è che siamo andati in vantaggio, cazzaroma. Guardate, lì si ferma, carica tutto, donnarumma, forse il piede un po' avanti, no? Mamma mia, l'aveva pure spiazzato, che rigore, che rigore, che rigore che aveva tirato. Complimenti, perché veramente l'aveva spiazzato in pieno donnarumma. Eeeh, Bernardeschi! Questo qui ve l'ho detto ragazzi, questa è già la sua fortuna, già se l'è giocata questo qui. Mio Dio, ce le già lo odiano tutti i Bernardeschi, poveraccio, poveraccio. Quella azzecca di rigore sotto la traversa con la spagna a culo, ma figurate. Comunque, come vi dicevo, centrale spiazza! E anche piuttosto umiliante. Qui mi ricordo quella volta che era sempre Italia-Inghilterra, che Pirlo fece il famoso cucchiaio al portiere inglese, che poi disse Pirlo, si stava troppo atteggiando il portiere, però vabbè, quello era Pirlo. L'Italia torna in vantaggio contro l'Inghilterra. Ma vabbè. Peccato, perché senza quell'errore di Belotti potevamo anche vagamente avere qualche speranza, ma noi la nostra carta fortunata ce la siamo già giocati. Loro invece adesso hanno comunque... Sancho, questo è un altro come Rashford, che è entrato apposto per tirare il rigore, è entrato un pochino, e alla fine è bello fresco. Ragazzi, a botta di culo possiamo avere una volta, non due. Per cui Rashford può sbagliare, ma non sbaglia lui. Che poi l'ha sbagliato di poco, tira... Paradonna Rumma! Paradonna Rumma! Paradonna Rumma. Ok, questi qui sono entrati bene per tirare il rigore, diciamoci la verità. Che peccato, guarda, mamma, chi è che tira l'ultimo rigore? Mannaggia, oh. Che peccato, che peccato. Se avevamo più rigoristi, avevamo più persone capaci. Giorginio, eh, ma Giorginio ha avuto la freddezza la volta scorsa. E l'hanno anche troppo lanciato a Giorginio, addirittura hanno fatto un meme che dice che adesso freddezza in italiano sulla Treccani indica il rigore di Giorginio. Cioè praticamente ci siamo autogufati da soli dicendo sta cosa, e mo' sto poverino praticamente... Cioè l'abbiamo gufato, sto povero disgraziato, capito? L'abbiamo gufato... Ma che non fare cazzate? Guarda lì com'è teso, c'è una faccia che è peggio di Belotti prima, come cazzo facciamo? Mi dispiare, non è per gufare, che veramente... Se l'è giocata, capito? Poi questo qui che stasera le piglia tutte, porca puttana. Va a Giorginio. Tira, spara. Peccato, ve l'ho detto ragazzi, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Purtroppo ce lo siamo troppo gufati, ce lo siamo troppo gufati. Peccato. Peccato. Vabbè, l'Italia perde così. Wow, guarda lì che Roma. Perde così. Pickford veramente bravo, bisogna riconoscerlo. E l'Italia non può che, come si dice, non può che piangere sul latte versato, perché adesso Osaka porterà sul 4-4 l'Inghilterra, si è andato oltranza, ma adesso poi il morale sarà tutto a favore degli inglesi, che veramente sentiranno che la Coppa è l'oro. Osaka tira. Peraccio! L'Italia è campione! L'Italia è campione d'Europa! L'Italia è campione d'Europa! L'Italia è campione d'Europa! Ma porca puttana! Mi fa un culo! Dai, cazzo! Dai, cazzo! Mio Dio, siamo campioni d'Europa! L'Italia, la squadra che non si era qualificata! L'Italia è la squadra che non si era qualificata! Nemmeno ai mondiali l'Italia si ritrova a essere campione d'Europa! Metti sto cazzo di 4 a 3! L'Italia è campione d'Europa! Vogliamo dirlo! Vogliamo dirlo! Possiamo dirlo per una volta soltanto! It's coming home! Yeah! Vaffanculo! Vaffanculo, tu hai tutto coming home! Mamma te! Che soddisfazione! Che soddisfazione! Questa mi va a mettere i tre giocatori dei cambi! Rashford, Sancho e Saga! Gli ultimi tre rigori dei sbagliano tutte e tre! Grande! Mancini in lacrime! Giorginio in lacrime! Pickford in lacrime! Ma per motivi diversi! L'Italia è campione d'Europa! It's coming home sul serio! La gufata di Strike! Mamma mia! Meglio del voodoo! Mi sono ragazzi! Ci ho messo l'anima! Vi giuro! Ci ho messo l'anima! A un certo punto c'era uno in cosa lì? Come? In chat che mi dice ma Strike però al gol dell'Italia non hai neanche esultato! Hai tolto! Guarda Mancini la grande! Uno mi ha detto ma non ci hai messo neanche l'anima così! Non hai esultato! Perché così? Ragazzi ho gufato! Ho gufato con una stanchezza incredibile! Ho dovuto temporeggiare le esultanze! Ho dovuto fare tutto il possibile per gufare! E dal primo minuto che dico che non arriviamo al 120 scrivi Italia lì sopra cazzo! C'è quello lì con la pennina che sta scrivendo! E che vuoi parlare? Non è un videocommento! Il videocommento per dire l'Italia è forte però in difesa dobbiamo migliorare! Che cazzo vuoi migliorare più? Abbiamo vinto! È finita! L'Italia porta a casa la Coppa! Roberto Mancini! Roberto Mancini! Ragazzi ho fatto! Ho mangiato il frutto gufo gufo! Ragazzi! Roberto Mancini ha preso una squadra che era stata eliminata dalla Svezia non si era neanche qualificata! E questo vi ha fatto vincere un'Europa in due anni! Cazzo! Ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Io ho scritto un post sulla mia pagina Facebook che poi ho visto che aveva avuto anche tante condivisioni e like! Ragazzi! Ma veramente il Mancio si merita questa vittoria! E ha creato quello che manca anche alle grandi squadre come la Francia! Il gruppo! L'Italia rispetto alle altre aveva il gruppo! Perché nei momenti di sofferenza si è visto il gruppo! Io a volte ho detto da tifoso anche della Juve che mi disgustava a volte guardare la mia squadra era troppo spocchiosa perché il calcio è bello anche quando puoi insegnare qualcosa l'Italia questa Italia ha insegnato una cosa il gruppo è la cosa più bella che c'è il calcio è uno sport di gruppo ed il gruppo è la cosa che ha vinto abbiamo sofferto abbiamo sofferto con la Spagna abbiamo sofferto anche in alcuni momenti con l'Austria e abbiamo sofferto all'inizio della partita con la Svizzera e non è stato un caso perché la Svizzera avete visto che squadra era e abbiamo sofferto tantissimo stasera il secondo tempo supplementare almeno fino a quel fallo di giallo di Giorginio che poi li ha fermato un po' il pressing inglese ma ragazzi abbiamo sofferto tanto è stato il gruppo che ci ha fatto vincere veramente bello, bello, bello complimenti all'Italia è stata veramente una partita una soddisfazione enorme per questi ragazzi sono veramente felice, felice, felice a parte che adesso Donnarummo ovviamente guadagnerà tanto io stacco qui perché adesso partiranno poi le telefonate cosa penso qualche carosello me lo vado pure a fare in giro comunque ragazzi è stato veramente bello bello grazie a tutti voi per la compagnia di queste partite italiane siete stati in tanti è stato divertentissimo e niente it's coming home come dicevate prima adesso ci gustiamo tutto il post partita con le lacrime dei giocatori e poi nei prossimi giorni vedremo anche finalmente i nostri che porteranno a casa una coppa che vale veramente tanto per un'Italia che ricordiamo è stata presa dalle macerie c'è solo una parola un mito per quest'Italia la finisce questa proprio l'ha presa dalle genere l'ha fatto vincere subito subito non è che dice vabbè ha fatto un buon europeo è una buona base per ripartire ha fatto vincere un europeo contro Francia contro Belgio contro Svizzera contro cosa lì come si chiama l'Inghilterra cioè ragazzi veramente straordinario godura totale ma anche soprattutto per come gli inglesi si sono comportati adesso la ragazza che dice hanno fischiato lì ma a parte quello onestamente troppo spocchiosi e abbiamo insegnato anche un'altra cosa agli inglesi che noi italiani abbiamo a quanto pare loro no non dovete mai tifare prima del tempo mai tifare festeggiare prima del tempo mai c'era un grande saggio italiano che disse non dir gatto finché non gelano il sacco ricordatevi questo inglesi remember remember questa cosa mai dalle nostre parti si dice sputare in aria che in faccia ti torna ad esempio ecco quindi meglio così buonanotte a tutti ragazzi fate i bravi partono già i caroselli fantastico ci vediamo e grazie mille per averci seguito ripartiremo alla grande ciao ciao